L'Iscio.1 presenta Top Ten, la classifica ufficiale italiana della musica da ballo. In collaborazione con MediaTv, Global Communication. Scopriamo subito chi si trova nelle prime dieci posizioni. Dieci. Omar Lambertini, Non fermarmi. Nove. Mina, Adriano Celentano. Iva. Otto. DJ Berta, Saltando, Bailando. Sette. Un bacio a te, dell'orchestra italiana Bagutti. Sei. Marianna Lanteri, Prendimi. Artista del mese di Liscio.1. L'artista del mese di marzo di Liscio.1 è Castellina Pasi, segretamente. Nella mia mente, nella mia vita, se solo lui, segretamente, l'amavo, l'amo e l'amerò. Scopriamo chi si trova nelle prime cinque posizioni. Cinque. I Rodigini, Mal d'Africa. Quattro. Bagutti, Lambertini, Lanteri, Tarantino, Benzi. L'Italia siamo noi. Al terzo posto c'è... Omar Lambertini, un amore così. Al secondo posto c'è... Rossella Ferrari e Casanova, il canto del mar. Primo posto per... Omar Codazzi, sentimento. Scarica adesso l'app di Liscio.1 e ascoltaci ovunque dal tuo smartphone e tablet. Resta sempre aggiornato sul mondo della musica da ballo. Segui la pagina Facebook di Liscio.1. Segui la musica da ballo italiana. Liscio.1 Sì.